se basta se ci puoi in braccio tu guarda qui adesso andiamo indietro no? certo perché pensi che di là non è così? qui siamo andati perché ci sono passate le jeep se non erano passate le jeep non passavamo se di là le jeep non sono passate noi non potremo pedalar mai se quando questo lo sto perso? si va 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 si aspettate due minuti se ne vediamo giù di sotto ora sprofondo rimedi al trattore? mi sono al giro dei piedi eh mi sono andati mi sono andati mi sono andati